Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di Domenica Horror Finalmente presento un gioco che volevo presentare da un bel po' da quando l'ho comprato Ovvero Project Zomboid Un gioco che parla ovviamente di zombie E' un gioco di sopravvivenza come ad esempio non so Fare un titolo che conoscete così capirete che tipo di gioco è Tipo DayZ O ad esempio H1Z1 Un gioco uscito anche recentemente dai zombie Diciamo è simile a quello lì solo che questo gioco è visto dall'alto Quindi diciamo che è 2D visto dall'alto giustamente E anche se non sembra un grande gioco invece è abbastanza carino come gioco E io vi dirò che giocherò multiplayer online Ovviamente ora sono da solo non so se conoscerò qualcuno con cui giocare Oppure qualche mio amico che ha questo gioco Nel prossimo episodio vedrò Mi organizzerò con qualcuno forse Per adesso giocherò multiplayer online giustamente ci saranno altre persone Giocherò online perché giocare single player è troppo semplice come gioco Perché hai ogni casa che controlli comunque trovi le cose Quindi è difficile morire Invece entrando in un server pubblico è più facile morire Perché il tuo personaggio troverà difficilmente cibo, acqua, oggetti per combattere e cose così Quindi dovrai sfruttare la vera sopravvivenza di questo personaggio A me piace molto questo gioco in multiplayer appunto perché ci sono un sacco di zombie Ma veramente un sacco Cioè in un punto potete trovare tipo in centro urbani Anche mille zombie posso dirvi Cioè ce ne sono un sacco Veramente bello questo gioco A me o a meno a me piace Comunque ragazzi Io voglio fare un personaggio femminile perché sui giochi del genere di sopravvivenza di solito uso personaggi femminili Perché giocando sempre a Resident Evil ho sempre usato personaggi femminili Allora userò anche qui così Per adesso possiamo anche modificare pelle e colore del nostro personaggio Cioè possiamo farlo di colore bianco o di colore nero Io vabbè giustamente sono bianco quindi farò bianco Metterò dei pantaloni preferisco che una gonna E il colore tipo sul... potrei puntare sul nero Sì mi piacciono Capelli lunghi mi piacciono questi qua E direi di farli un po' più scuri Sì, così mi piace Ora a posto della connottiera mettere una maglietta E del colore... Un colore che c'entri molto con il nero Potremmo modificare qualcosa No, questo è troppo scuro No, così mi sembra l'inter Non per qualcosa ma mi sta sulle palle l'inter Ok ragazzi ho scelto Mettiamo lo su Allora Avanti Ora ci sono diversi occupazioni del tuo personaggio C'è anche il disoccupato Ad esempio però queste sono le abilità principali Cioè la forma fisica è forza Cioè diciamo se non mi sbaglio è quella cosa normale La parte E Cioè il personaggio inizia senza abilità se possiamo dire così Però ho 8 punti da spendere Ovvero posso mettermi punti buoni Ad esempio non so posso mettere cura veloce Non so uno zombie mi fa un graffietto Io avendo questo bonus riprendo facilmente le... Cioè mi curo più facilmente Aumento... Vabbè comunque avete capito Senza che faccio rigi di parole Perché non so... Sto impampinando da solo Vabbè ci sono diversi ruoli Tipo paninario, istruzione di fitness Taglialina, infermiere, dottore Da poliziotto e diverse cose Io punterei da andare su disoccupato Disoccupato comunque ho punti buoni E poi farei un'altra cosa Io metterei analfabeta Che così prendo bei punti E mettere anche claustrofobico Anche comunque claustrofobico Ti viene facilmente il panico Quindi in ambienti chiusi Ad esempio case E cose così Ti riesci difficilmente a combattere Perché giustamente più sei nel panico Più diminuisci la precisione E queste cose così Allora Io direi come punti positivi Mettere fortunato Semplicemente il fatto che così inizi Subito con oggetti ottimi addosso Cioè almeno ci spero Poi metterei pelle spessa Perché mi dà minore probabilità Che graffi e morsi mi feriscono Poi resistente Quindi meno probabilità di ammalarsi E mettere anche stomaco di ferro Visto che comunque è un gioco di sopravvivenza Conviene avere lo stomaco di ferro Così è più difficile Morire per cibo Che mangi male Giustamente comunque il cibo Si fa male E non credo che mangerai sano Poi come un'altra abilità buona Cioè posso mettere Ho tre punti Io proverei a mettere Abile non so Sposta l'inventario Oh mettere questo Che sposto gli oggetti facilmente nell'inventario Ora possiamo mettere gioca Bene ragazzi Come vedete ora siamo Partiti qui Cioè noi iniziamo la nostra partita In questo punto Queste sono la mia salute Cioè qui clicco Per vedere la mia salute Abilità E info Cioè la mia età Il sesso Le mie tratti E cosa facevo come lavoro Guardate Ora visto che sono in una casa Il panico Precisione Il raggio visivo è estremamente ridotto Come avete visto Come vi avevo detto io Allora Vediamo cosa abbiamo addosso Abbiamo tre mele Quindi abbiamo del cibo Un'arma Ovvero il mattarello Anche se non credo che sia una grande arma Ora noi ci conviene Prendere tipo la gonna Semplicemente perché Noi facciamo dei stracci Rip Shit Non mi ricordo come si Shit Non mi ricordo Rip shit Ok Vediamo Noi dobbiamo comunque controllare Se In questi oggetti Troveremo qualcosa di utile Anche se dubito Di trovare qualcosa di buono Io prenderei la paletta La padella Scusatemi Semplicemente del fatto Perché non abbiamo armi all'inizio Quindi del meglio Almeno quello Ce l'abbiamo Ok qui possiamo bere L'acqua c'è ancora in questo Ah questo è un server italiano Quindi Chi ha questo gioco E vorrebbe Unirsi alla partita Potrebbe Cioè comunque Cerchiamo di trovarci E cercare di sopravvivere insieme È l'unico server italiano Creato da una persona Che comunque ho conosciuto Abbiamo fatto anche amicizia E mi ha spiegato un po' La situazione Di questo server Cioè Non ci sono molte persone Perché gli italiani Che giocano a sto gioco Sono pochi Per adesso sono Solo io online Di solito A questo gioco Ci giocano la sera Le persone Tipo 5-6 persone Nel server possono entrare Se non mi sbaglio All'incirca 32 persone O 64 Ora non ricordo Comunque possono entrare Molte persone Bene ragazzi Come vedete Ora iniziamo Ad esplorare Capire qualcosa Questo gameplay So che verrà corto Perché all'inizio Vi ho fatto vedere Un po' come creare Il personaggio E queste cose E vi sto spiegando Un po' i meccanismi Nel prossimo episodio Comunque sarà Più serio Farò più cose E cercherò anche Di sopravvivere Ah comunque Vi sconsiglio Di correre Come sto facendo io Attira molti zombie Visto però che non sono Nelle vicinanze Ci sono dei zombie morti Qui Vediamo se c'hanno Vitamine Queste sono utili Le vitamine A cosa servono Riducono la stanchezza Quindi Non servono Al 100% Visto che nei server pubblici Non si dorme Questa cosa è brutta Però mi dispiace Per forza così dovrebbe andare Perché sennò Non avrebbe senso Allora Qui ci sono altri corpi Hanno fatto una strage Qui dentro Sicuramente Qualche sopravvissuto È passato in questi Dintorni Anche se ora Non è l'online Però probabilmente È arrivato qui Cioè Ho trovato degli oggetti All'interno di quella casa Vediamo se Riusciamo a trovare qualcosa Allora Comunque vi sconsiglio Di passare dal vetro Perché se siete sfortunati Potreste Tagliarvi facilmente Allora Prendiamo Tutti e due coltelli Di burro Carnegina Per la sete Ci conviene prenderla E prendiamo anche Il sacchetto Aspetta Ho trovato qualcosa Dove cazzo era? Uno yogurt O mi sbaglio Dove cazzo l'ho? Ah Non riesco a trovare Ah yogurt Ah minchia È marcio Prendete sempre I lenzuoli Per farvi Comunque le bente E cercare Di curare Perché Credo che sia difficile L'ho da trovare De kit medici In questa partita Probabilmente Allora Oh mio dio Ragazzi Guardate questo Ondata Questi sono i zombie In questo gioco Per questo Io amo questo gioco A parte perché È molto realistico Se ci sono molti zombie Inizi a avere Sei terrorizzato Pieno di panico Inizi a ridurre I tuoi combattimenti Ai zombie Comunque ti seguono Ti seguono Guardate qui Quando è andata Quante Ondate ci sono Io consiglio di correre Adesso Perché ci sono Troppi zombie Per cercare In qualche modo Di allontanarci Possiamo attraversare Di qui Questo è un negozio Grande Credo che sia Un negozio Tipo Ma andiamo Ah c'è un altro Negozio lì Però prima Andiamo qui dentro Andiamo a curiosare Qui Molte persone Ne sconsigliano Di Di controllare Allora Come vedete ragazzi Siamo arrivati qui Ho trovato Degli asse Gli asse Sono molto utili Ah no aspetta Ma io non ho i chiodi Giustamente Non ho quella roba Non ci servono Questi qua Le asse servono Per barricare le porte E cose così Ma giustamente In questo momento Noi ne abbiamo Un cacchio Aspetta Lì c'erano Se non mi sbaglio Ecco Non ci sono cose utili Poi è anche importante Avere anche un maglione Appresso Perché se viene freddo Dovete cambiarvi I vestiti Giustamente Così Come sia Così Ok C'è uno zaino Perfetto Questo ci servirà C'è una mazza da baseball Allora Facciamo una cosa Prima cosa Indossa sulla schiena Così riduciamo Prendiamo le cose E riduciamo il peso Ok abbiamo preso qualcosa Ho paura Ho sentito dei zombie intorno Spero che non sono qui Sigarette Io vi consiglio Di prendere le sigarette Poi vi spiegherò perché Non adesso perché Ora sono Un po' Cosa cazzo c'è qui Prendiamole Allora Andiamo via da qui Sento troppi zombie Mi sta venendo un po' d'ansia Allora Credo Non so se è entrato qualcuno No Non dovrebbe essere Aspetta Devo mettere aggiorno Perché ho sentito uno sparo I zombie giustamente Si stanno spostando Forse Dei sopravvissuti Robot Non lo so So solo che Non possiamo andare In quella struttura Dobbiamo cercare Di cambiare strada Perché qui è pericoloso Infatti Si stanno riunendo Tutti i zombie Minchia Attraversiamo di qui Cerchiamo di tagliarlo Oh mio dio I zombie che si sono formati L'intorno Quindi è meglio Cazzo Siamo circondati Dobbiamo cercare di Andare di figlio Come faccio Attraverso Ok devo attirare un attimo i zombie Farli allontanare Dal muro Ragazzi questa cosa È una manovra complica Poi vi consiglio Sempre di correre In queste situazioni Perché è molto Rischioso Questa cosa Quello che ho fatto io A meno che non avete Un po' di esperienza Di fuga Perché io sono il tipo Che corre sempre Quindi lasciamo stare È meglio allontanarci Da qui perché È molto pericoloso Allora ragazzi Noi cerchiamo di Questo è un tatuatore Fammi vedere Ho visto dei zombie Che cercano Oh mio dio Questo ci serve Dove cazzo è? Questo è importantissimo Il piede di porco Perché fa molti danni Allora Cerchiamo di allontanarci Senza fare Troppi rumori Per adesso Non abbiamo trovato Nulla di che speciale Perché possiamo trovare Molte cose Questa ad esempio È una pizzeria E qui ci sono molti zombie È molto pericoloso Questa zona Cerchiamo di allontanarci Un po' da qui E poi Fermiamo Quel gameplay Perché Volevo comunque mostrare Un po' il gioco La difficoltà Con che si possa trovare online Se qualcuno vuole giocare Vi ho detto Potremmo incontrarci Online E comunque Più ne siamo Più possiamo Sopravvivere O almeno credo Come avete visto Questo È una piccola parte Di questo gioco Posso dirvi Gli ho fatto vedere Una piccola parte Forse Registrerò anche Con un mio amico Perché a lui Faceva piacere Fare qualche gameplay Insieme a me Con questo gioco Perché ce l'ha anche lui Abbiamo Te l'ho detto Abbiamo conosciuto altre persone In questo server Proprio E cercheremo di fare Qualche video insieme So che questo qui Verrà corto Perché questo è un gioco Che dovrai fare Capo da pallone Dovrai fare diversi Dovrai registrare Almeno 20 minuti Credo Giustamente farò qualche taglio Se c'è bisogno Comunque vi ho fatto vedere Un po' Il gioco Bene ragazzi Ci vediamo Nel prossimo episodio Spero che questo video Vi sia piaciuto Lasciate un mi piace Un commento Se vi è piaciuto Ovviamente E sotto la descrizione Troverete la pagina Facebook e Twitch Se potrete Se volete Iscrivetevi Alla pagina Facebook E anche Twitch Alla prossima ragazzo Ragazzo però Alla prossima ragazzi Ciao